fai i bocchini al cazzo dell'arabi la verità che ha chiesto? al cazzo di chi? al cazzo di chi? dell'arabi ma te vuoi coprire con qui mentre c'è tutto il culo di fuori e fa la penita ma chi ti va a parlare? lui ma chi so cua l'uade? oh riccardo sei in cassa se dici così ma chiama riccardo? 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 chiama riccardo un attimo chi so cua l'uade? chiama riccardo un po' chi so cua l'uade? chi so cua l'uade? io ci torna qualche maniglia guarda che vieni a gente riccardo sei in piedi? parla? sei in piedi? 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 hai sentito? te l'avamo pure pure quello che ti ha detto non so che è pronto ma il mortale stai andando stavo nudo stanno e fuoco 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 stanno e fuoco